Come sta Chiara Ferragni, news sui problemi con la gravidanza dopo l'annuncio di Fedez solo qualche giorno fa Fedez ha preoccupato tutti i fan, Chiara Ferragni ha riscontrato qualche problema con gli ultimi mesi di gravidanza e con la crescita fetale del figlio in arrivo. Come sta ora The Blonde Salad, cosa è emerso dall'ultima ecografia e dai recenti accertamenti medici, ebbene, pare che la situazione sia migliorata. E, dopo aver annullato tutti gli impegni di lavoro, Chiara ha rassicurato i suoi follower su Instagram. La Ferragni ha prima ringraziato chi ha speso una parola di conforto nei suoi confronti, poi ha rivelato che Leone il nome scelto insieme a Fedez per il bebè in arrivo ha ripreso a scalciare nella pancia dopo alcuni giorni di silenzio. Giorni di ansia e preoccupazione per la famosa coppia, che si è trasferita da qualche settimana a Los Angeles. Qui è previsto il prossimo aprile il parto di Chiara Ferragni. La scelta della California è di pesa dalla volontà di voler concedere al bambino, fin dalla nascita, la doppia cittadinanza. Che problema ha Chiara Ferragni con la gravidanza, grazie dal profondo del mio cuore, da fede e grazie anche da Leoncino che scalcia come un pazzo, ha scritto Chiara Ferragni su Instagram. Ma che problema ha riscontrato la web influencer? La trentenne sta subendo un invecchiamento della placenta, una complicanza che capita a molte donne. In pratica la placenta che è l'organo che nutre il feto sta invecchiando precocemente e sta intaccando la corretta crescita del bambino. Le cause di questo fenomeno? Nella maggior parte dei casi sono tre, il fumo, il diabete gestazionale e l'ipertensione. Alla Ferragni è stato consigliato il riposo assoluto proprio per favorire l'ossigenazione del feto, in altri casi si opta per un parto pretermine. Alla Ferragni è stata consigliato di fare l'obietà, in altri casi si opta per un'obietà, in altri casi si opta per un'obietà, in altri casi si opta per un'obietà, in altri casi si opta per un'obietà.